Siamo in televisione e guardiamolo sto golf, non solo è divertente, ma vi può insegnare anche qualche consiglio in più da usare sul campo da golf. Quali principalmente? Guardate come si muovono i giocatori prima di eseguire il colpo, guardate come si mettono sulla palla, guardate le loro routine, si chiamano. Questo vi potrà aiutare tantissimo a migliorare il vostro gioco. Non cercate di copiare lo swing di Tiger Woods perché è difficile farlo, però se copiate le routine, copiate gli approcci attorno al green, copiate come fa nel pat, quello vi può essere veramente di grande aiuto e poi ci divertiamo un sacco, vi aspettiamo.